Benvenuti a Frosinone, una città in rapida crescita nel cuore dell'Italia, dove abbiamo osservato un trend in aumento di quello che è il mercato immobiliario locale. Abbiamo notato un fenomeno molto interessante, un aumento significativo delle vendite di appartamenti da mettere a reddito. Ma qual è il segreto dietro questo successo? Scopriamolo insieme. Frosinone è la sede dell'importante corso universitario di scienze interuniristiche, in più la città vanta anche una rinomata accademia delle bene arti ed è un prestigioso conservatore di musica. Per gli studenti universitari vivere vicino al luogo di studio offre numerosi vantaggi, è proprio questo uno dei fattori chiave che ha spinto la crescita delle vendite degli immobili da mettere a reddito. Abbiamo notato che le unità immobiliari più richieste si trovano in un range massimo di 65 mila euro. Gli stessi immobili che successivamente vengono poi affittati agli studenti universitari. Metti in conto anche che gli appartamenti disponibili sul mercato sono in buone condizioni, quindi se stai cercando un investimento immobiliare in redditizio, in questo momento Frosinone potrebbe essere la scelta ideale per te. Speriamo che queste informazioni vi siano state venute. Io sono Graziella Focco e lavoro per l'agenzia Casa Italia che opera sulla città di Frosinone da oltre 35 anni. E se il video vi è piaciuto metti un like.